eccoci qua e ora andiamo a fare il video di questa torre ed eccoci qua pronti con un nuovo unboxing questa volta questo è un pacco veramente speciale e sono molto contento di essere cresciuto fino a questo punto anche grazie a voi chi mi conosce da più tempo e ha visto le mie recensioni su amazon mi ha aiutato a crescere a far sì che tutto questo poteva diventare reale quindi un attimo scusate il fiadone e l'emozione quindi andiamo ad aprire il pacco e ora vi faccio vedere che cosa ci c'è all'interno e eccolo qua in tutta la sua bellezza l'armor 5s telefono di ulefon ragged quindi non perdiamo tempo andiamo ad unboxare che sono curioso di vedere questo telefono che sulla carta è veramente un ottimo telefono quindi prendiamo il tag il cortellino andiamo a tagliare tutte le plastiche eccolo qua nella sua bellissima confezione gialla riportati sopra degli escursionisti ma che ci frega dai sono curioso di vederlo ed eccolo qua eccolo qua l'armor 5s pesantuccio è vero dopo studierò le caratteristiche tecniche e vederò una prima impressione migliore comunque bello esteticamente mi piace soprattutto che nei bordi non ci siano quei bumper troppo grandi che si vedono negli altri modelli ragged in confezione troviamo la spilletta per la rimozione della sim questo telefono è dual sim un vetro di protezione vedo tremperato ottimo lavoro questo da parte di ulefon manoletti di istruzione e poi troviamo il cavetto usb type c perché questo telefono ha l'usb type c per l'ottg troviamo il cavetto di ricarica sempre usb type c un riduttore da micro usb a usb type c e il carica batterie che è da 5 volts 2000 milliamper ora e poi questa spatolina che non ho capito ancora che serve comunque mettiamo tutto da parte andiamo ora passiamo al catartico momento delle pellicoline una le due allora parliamo un po di lui caratteristiche tecniche troviamo un attimo che leggo perché non le so a memoria 5.000 milliamper ore di batteria e questo è veramente un bene intanto lo andiamo accendere display da 5,8 pollici e waterproof ip68 con la possibilità di fare anche riprese sott'acqua dual sim risoluzione di 1512 x 720 pixel octa core e questo è un media com quindi vediamo un attimo come va dual camera face id e impronta touch con android 9 quindi andiamo velocemente a configurarlo e una volta che l'ho configurato ci ritroviamo qua per parlare un po di lui ed eccoci qua finita la configurazione vado accendere lo faccio sbloccare con il volto molto veloce in questo caso proviamo anche il sensore di prodotti digitali abbastanza preciso non c'è non ho niente da dirgli anche se qualche volta fallisce i riconoscimenti però è un sensore capacitivo di generazioni vecchie con una capacità di risposta di 0,1 secondo comunque devo a parlare delle sue dimensioni 158,3 mm 76 mm per uno spessore di ben 12,6 mm uno spessore abbastanza importante che può essere spiegato e giustificato dal fatto che sia un telefono rugged e veramente molto resistente peso di 228 grammi con una batteria all'interno ricaricabile sia da usb type c sia da ricarica wireless di 5000 mAh 64 giga la memoria interna che è espandibile fino a 256 con una memoria ram da 4 giga e android 9 pi a bordo il processore è un mediatek mt6763 un octa core da 2 gigahertz per ora non mi ha dato nessun tipo di problema andiamo ad aprire un attimo le applicazioni più pesanti tipo instagram oppure andiamo ad aprire un'altra applicazione tipo amazon anche a base anche amazon abbastanza pesanti in quest'ultimo periodo vi faccio vedere una pagina che dovete andare sempre a seguire ecco questa dovete andare qua e mettere segui ok perché questo è molto importante comunque scherzi a parte andiamo a parlare di altro parte posteriore fotocamera principale da 13 megapixel con un fuoco a 1.8 e una secondaria per l'effetto bokeh che da 2 megapixel dual flash led come abbiamo detto sensore di impronte digitali capacitivo microfono posteriori per i video e una cassa altoparlante bordata di arancione soltanto nella parte posteriore back cover in simil carbonio comunque lo giriamo abbiamo sempre queste finiture sia nell'alluminio che nella plastica dei bumper arancioni su sfondo nero e nella parte destra troviamo volume per volume su volume giù e tasto power zigrinato nella parte post sotto troviamo il coperchietto con il vano usb type c nella parte sinistra liscio tranne questo che è lo sportellino per la sim 2 sim perché questo telefono è dual sim 4g oppure la memoria da 256 nella parte superiore troviamo fortunatamente il jack per le cuffie nella parte frontale abbiamo fotocamera da 8 megapixel fuoco 2.0 molto molto buona fa delle foto veramente belle e la cassa per l'altro per l'altoparlante per le chiamate abbiamo la notch come avete visto abbiamo la notch che non ha senso perché i bordi sono molto grandi quindi sarebbe potuta potevano implementarla molto bene non c'è nessun cioè perché perché apple detta legge è così vi lascio un sondaggio qua sopra ditemi se anche per voi apple detta legge comunque andiamo a sbloccarlo andiamo a fare un po di test come abbiamo visto instagram molto veloce andiamo a chiudere tutte le applicazioni e andiamo a fare innanzitutto uno speed test sulla mia rete di casa o la 30 mega di euro quindi ben o male quello del valore di riferimento ed eccolo qua 19 mega in download 2,91 mega in upload ci sta come valore anche se con il mio telefono personale ho raggiunto raggiungo di solito i 24 25 mega comunque ci sta e poi andiamo a provare l'audio con spotify ok come avete sentito l'audio è molto forte l'unico pecca è il fatto che se si viene su una superficie assorbente l'audio si sente poco da me e questo bellissimo sfondo dell'armor 5s è tutto vi lascio qualche video di qualche prova di distruzione del telefono e vi aspetto con la recensione completa e l'esperienziale di questo telefono tra pochissimi giorni e l'esperienziale di questo telefono tra pochissimi giorni e l'esperienziale di questo telefono per l'audio Just to find somewhere that finally feels like home I hate all this overthinking The more I swim, the more I'm sinking Take me to a world of silver No more heartbreaks, tears, painkillers Take me somewhere unfamiliar Bring me back to where we started